32 metri quadrati di mare circa 30 vasche di alluminio riempite d'acqua ognuna di una gradazione di colore diverso per richiamare la profondità del mare, ad esempio qua è la spiaggia ad esempio, capito? insomma prendi il sole, qui l'acqua è bassa oh qua è profondo eh, qua è pericoloso secondo me, qua ci stanno gli squali e poi non lo so se lo sapete ma questo è stato ispirato ai nuovi palazzi dell'Eur e io dico meglio così, perché se fosse stato ispirato al laghetto che è verde tutto belmoso, non sarebbe stato così carino vabbè lasciamo stare va ragazzuoli, sono Pitta allora sono passata al museo e il mare l'ho visto un po' spento me l'unitipo ha riempito a filo e l'acqua va ricolorata per bene trovate al restauro un libricino con tutte le formule del colore delle vasche ok, si intitola il colore dell'acqua di mare intesa come plastica di liquido sta nel secondo scaffale a destra dai, gamba